Ehi bella gente, il doc è qua presente. Allora parliamo dello schifo di ieri, di quei beceri, idioti, mezzi uomini o animali, come li vogliamo chiamare. Quelli che ieri intonavano in Spezia Napoli, lo stadio dello Spezia, Sai perché mi batte il corassone, è morto Maradona, altre stronzate che... Adesso vi farò vedere. Allora? Ditemi, vi sembra normale? Ma stiamo scherzando, ma voi offendete delle persone morte. Oltretutto offendete il più grande calciatore che sia mai esistito solo perché state perdendo 3 a 0. Ma che cazzo vi fumate la sera? Ma che droghe usate? Dei celebrati del cazzo? Brutti, ignobili, ma siete degli ignobili? Siete gente ignobile. Gente che allo stadio non dovrebbe neanche entrare. Perché, come ho già detto in altri video, ci sono i bambini, pezzi di merda. C'hai il bambino a fianco, c'hai l'uomo maledetto schifoso che non sei altro. C'hai il bambino. Ma poi io voglio dire, no? E cori su... Lavali col fuoco, o Vesuvio. Ma ti tira il culo. Non è che se il Vesuvio esplode lava il tifoso, eh. Lava anche i bambini, le donne, pezzo di merda. Ma sei scherzando? Senti che puzza scappano anche i cani. Ma dove cazzo vivete? Ma poi volete mettere quella merda di città della Spezia con Napoli? Ma vuoi merdere quel buco di città? Ma che cazzo parlate a fare? Ma che cazzo parlate a fare? Vogliete fare uno sfottò? Sfotteteli! Ma con lo sfottò sano! E lo sfottò si fa se vince, no? Se prendete tre papine zitti a casa. Mi vergogno che avete i miei colori. Mi vergogno. Mi vergogno. Che adesso non sto facendo di tutto un erbo un fascio, eh. Perché molti tifosi dello Spezia sono indignati da quello che è successo ieri. Ma per quei quattro coglioni, per quei quattro coglioni, eh, passano, la tifoseria, passano tutti per stronzi. Invece sono solo quattro coglioni. Vergognatevi. Vi dovete sciacquare la bocca. Vi dovete sciacquare la bocca. Sia lo sfottò sano e basta. Non dovete oltrepassare. C'è una sottile linea invisibile. Ma è una linea che non si deve mai oltrepassare. Vi dovete vergognare. Vergognare. Di tirare in bado persone morte. Ma vi tira il culo, vi tira. Ma io dico a tutti quelli che hanno fatto il coro, no? E se lo fanno con vostro padre che è morto? Se mai da un anno cosa fate? Vi brucia il culo? Normale. Normale. Ma vi tira il culo. Allora, siete scandalosi. Cioè, la serie A deve fare qualcosa. Cioè, solo in Italia succedono queste cose. Solo in Italia. Uno schifo come i cori razzisti. Vi dovete vergognare. Un bacione dal doc. Mamma che schifo. Un bacione dal doc. Un bacione dal doc. Grazie.